prosegui qua strada in salita fuggio rosalba qua e qua vai tranquilla meglio no? non lo so e comincia anche a uscire il sole lo speriamo no no dritto dritto sai cosa vuol dire A? alpinistico bello brava che alpinista com'è? com'è? è facile com'è? è facilissimo ah ok arrivo che bello lo faccio anche con con il cellulare mentre sto filmando aiuto mi accedo eccomi è fatto sì sì grande barbie mi raccomando ricordati di usarle mai brava ma basta che è così divertente allora vuoi andare da sentire delle foppe e sentire dei morti ma andiamo sulle foppe e anche se non so che cos'è andiamo è giusto è sempre meglio dei morti esatto ma vabbè fatti in impendenza vai bambi potenza potenza è vero le noci le nocciole le castagne tutto per mangiare esatto grazie a tutti e può darsi le capre qui non ha paura di andare su o sono i caprioli certo un tricolo che avevamo visto anche l'altra volta wow è che si vede il rifugio tu quando pensi che c'è un sentiero più difficile va sempre a prendere quello e vabbè che il rifugio è lì è lì sono due ore che è lì ma che evitate di fare il sentiero dei morti ma ormai dire che siamo arrivati ecco eccolo bellino no? fuggio rosalba 1730 puoi risultare due ore secche ah vabbè ci ha messo anche poco c'è giusto c'è ancora madonna c'è il panorama andiamo a vedere dov'è? no su qua no non vado ah vado dai no ma com'è che panorama che panorama con la grignone vieni qua che ti faccio dire una cosa vieni qua che ti faccio dire una cosa vieni qua che ti faccio dire una cosa vedi là in cima a grignone se guardi bene c'è un rifugio è Brioschi quando è che andiamo a su sono quasi 5 ore di camminare sì ciao prossimo anno prossimo anno ormai basta la stagione di rifugio è finita non è vero siamo qua eh ma sono tutti chiusi quindi è neanche un caffè vabbè vieni a provare credo che sia chiusa la vera ormai not my e allora signorina Babi cosa ne pensa del rifugio in Rosalba e del sentiero delle fotte il sentiano l'abbiamo fatto in due ore e abbiamo camminato bene perché comunque è la temperatura giusta bella fresca e non difficilissimo però insomma un po' faticoso l'ultimo pezzo posso dire e neanche più pezzo eh sì cioè nel pezzo centrale diciamo quello che ci sono i pezzi del bosco e delle rocce esatto devi usare un po' le mani eh ma basta non è difficile non è difficile ma è anche macerissimo è difficile ma non è per tutti esatto eh il suo rifugio purtroppo è chiuso perché è finita la stagione dei rifugi e non importa eh vabbè ciao e adesso andiamo Babi dai che fa freddo si è un po' freddino e mi sono dimenticata il giubbino eh vabbè sospendiamo e alla fine Babi arriva il sole ok 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 ok